Ciao, anche oggi come vedi in mezzo alla natura? A me, io amo la natura. Ma torniamo a noi. In questo video parleremo Accetta te stesso. Perché accettare se stessi? Semplice. Ho notato che molte persone non riescono a accettare se stessi. Perché magari, come è anche giusto, vogliono sempre di più. Però saltano un piccolo passaggio. Accettare se stessi. Per quello che hanno, per quello che fanno. Sono delle idee che fin quando non accetti te stesso non avrai mai una crescita personale. Quindi un consiglio è metterlo in atto. Che vedrai i risultati già da subito. Accetta te stesso e avrai grandi risultati nella vita. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.